Si svolgerà domenica in seminario la festa di primavera organizzata dall'Unitalsi che ogni anno riunisce in una diversa città della regione bambini e genitori che hanno partecipato o parteciperanno al treno della Grazia per Loreto. E a proposito di Unitalsi ricordiamo che sabato e domenica in oltre 3000 piazze italiane tornano le piantine d'ulivo per la giornata nazionale Unitalsi, giunta alla sua decima edizione. L'iniziativa ha lo scopo di far conoscere l'associazione e le sue attività e al contempo di raccogliere fondi per la realizzazione dei numerosi progetti realizzati dall'Unitalsi a favore di chi è nel bisogno. Nella giornata di sabato troverete la postazione Unitalsi in piazza 20 settembre via Indipendenza vicino alla cattedrale a fianco della Basilica di San Domenico e nell'atrio dell'ospedale Bellaria. Domenica anche nel seminario di Villa Revidin in occasione della festa di primavera. Altre postazioni presso parrocchie e centri commerciali di Altedo, Bentivoglio, Cento, Poggetto, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, San Giovanni in Persiceto, Casalecchio di Reno.